tutto va in base a come come riescono a recuperare un po i ragazzi soprattutto dal punto di vista fisico gli infortuni adesso bisogna vedere sgarbi come sta perché è uscito per un problema alla caviglia e non è un problema muscolare ma un problema che ha avuto una distorsione quindi non sappiamo l'entità soprattutto se ci sarà domani per la partita angela idem e quindi poi mono che è squalificato negro e infortunato quindi devo valutare se cambiare un sistema di gioco cosa che a meno non mi piace perché la squadra ha avuto da quando si è ritornati dopo dicembre abbia avuto continuità dei risultati soprattutto anche di gioco li vedo molto più sereni e più tranquilli a giocare anche così anche se con la difesa 3 abbiamo fatto anche dei risultati però non è quello che a me a me piace però di necessità ripeto devo fare virtù e quindi bisogna valutare domani chi sarà disponibile per la gara e poi valuterò se giocare come abbiamo sempre fatto cambiare qualcosa ma io l'ho visto giocare difensore centrale nel campionato quando giocava nel campionato non mi ricordo campionato francese e l'ho visto giocare ha giocato sia la difesa 2 con la difesa 3 un giocatore a livello tattico è importante perché lui è molto intelligente dal punto di vista tattico sicuramente non è un difensore di ruolo e quindi magari nei duelli può trovare delle difficoltà però dal punto di vista tattico ripeto è molto intelligente quindi penso che dei centri rampisti sia quello più adatto per ricoprire questo ruolo e quindi valuterò valuterò se c'è l'emergenza quindi sarà è molto probabile che sia lui a sostituire magari il difensore